Acidità e gastrite, combatterle con rimedi naturali. Possiamo approfittare di questi rimedi naturali per alleviare e prevenire la gastrite senza preoccuparci dei possibili effetti secondari. Li assumeremo dopo i pasti principali. Acidità e gastrite colpiscono spesso lo stomaco, che svolge un ruolo principale nel processo digestivo. Infatti, questo organo si incarica di processare tutto quello che ingeriamo, affinché l'intestino possa assorbire nutrienti ed espellere i rifiuti. Dato che è uno degli organi che più lavorano per mantenere sano l'organismo, è spesso soggetto a diversi disturbi e malattie. Tra essi più comuni, dicevamo, ci sono acidità e gastrite, le quali generano una sensazione di bruciore nella parte superiore dell'addome, di solito accompagnata da infiammazione, dolore ed irritazione. Entrambe si possono sviluppare in seguito a diversi fattori, anche se i più comuni sono lo stress, l'eccessiva ingestione di certi alimenti oppure di cibi troppo irritanti. In qualunque caso, vi è un'ampia varietà di rimedi naturali che, a differenza dei farmaci, riducono i sintomi in poco tempo senza causare effetti secondari. Aceto di mele contro acidità e gastrite. L'aceto di mele biologico è un rimedio alcalino che equilibra la produzione di acidi nello stomaco, accelera il recupero dalla gastrite e sana le ulcere. I suoi composti acidi regolano il pH gastrico e riducono il fastidioso reflusso che si produce dopo aver mangiato. Ingredienti 1 cucchiaio di aceto di mele, 10 ml, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, cosa dovete fare? Diluite l'aceto di mele in un bicchiere d'acqua e bevete dopo i primi segnali di gastrite. Evitate di bere più di 3 bicchieri al giorno. Aloe vera con miele L'aloe vera è un noto antiacido naturale che, grazie alla sua composizione, calma il malessere gastrico, la diarrea ed altri sintomi di malattie gastrointestinali come la colite ulcerosa e la gastrite. Il gel trasparente contenuto nelle sue foglie è utile per favorire il movimento intestinale ed il processo di digestione. Si può unire ad un po' di miele per ridurre l'irritazione gastrica e l'acidità. Ingredienti 2 cucchiai di aloe vera, 30 gr, 1 cucchiaio di miele, 25 gr, 1 barra 2 bicchiere d'acqua, 100 ml, come procedere? Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore ed attivatelo per qualche istante. Dopo aver ottenuto una miscela omogenea, servitela e bevetela subito. Evitate di bere più di 2 dosi al giorno, perché ha un leggero effetto lassativo. Bicarbonato di sodio contro gastrite e acidità Considerato l'alcalino naturale per eccellenza, il bicarbonato di sodio è una sostanza che calma i sintomi della gastrite e di altri problemi digestivi. Gli esperti sconsigliano di assumerlo in caso di pressione arteriosa alta o se si segue una dieta povera di sodio. Ingredienti 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 5 gr, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, come procedere? Aggiungete il bicarbonato di sodio ad un bicchiere d'acqua e bevete prima che inizi a fare le bolle. Prendetelo massimo 2 volte al giorno. Acqua di riso L'acqua di riso è un tonico naturale che riduce l'eccesso di acidità di stomaco e facilita il recupero dalle ulcere e da altre lesioni. In molte culture viene utilizzato come rimedio per combattere la diarrea, ma è altrettanto utile per controllare il reflusso, i gas e i dolori addominali. Ingredienti 1-2 tazza di riso, 100 gr, 1 litro d'acqua Come procedere? Fate bollire il litro d'acqua con mezza tazza di riso, lasciatelo raffreddare e filtratelo tramite un colino di tela. Bevetela una o due volte al giorno dopo i primi disturbi. Acqua di semi di lino Gli acidi grassi dei semi di lino e il loro gel naturale sono di grande aiuto per trattare i problemi digestivi. Ingredienti 1 cucchiaio di semi di lino, 10 gr, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, come procedere? Versate un cucchiaio di semi di lino in un bicchiere d'acqua e lasciate riposare per 12 ore. Filtrate il prodotto e bevete il liquido gelatinoso a digiuno. Camomilla La camomilla è uno dei migliori rimedi per alleviare l'infiammazione dello stomaco e i sintomi della gastrite. Ingredienti 1-1 cucchiaio di fiori di camomilla, 10 gr, 1 tazza d'acqua, 250 ml, come procedere? Fate bollire una tazza d'acqua e, una volta giunta ad ebollizione, aggiungete i fiori di camomilla. Lasciate riposare per 10 minuti e bevetella. Ripetete le dosi dopo ogni pasto principale. Scegliete uno dei rimedi qui citati e verificatene la grande utilità al fine di combattere l'acidità e di sintomi della gastrite. Anche se alcuni prodotti in commercio sono utili per contrastarli velocemente, è più conveniente optare per le alternative naturali.